Salve a tutti, eccoci qui di nuovo al nostro appuntamento settimanale con i pianeti, con gli aspetti dei pianeti fra di loro. Allora questa settimana ci occupiamo degli aspetti Venere e Lilith. Allora vediamo che cosa succede quando Venere e Lilith sono in congiunzione perché in questo caso proprio la congiunzione è un aspetto problematico ma a differenza di quel che succede per tutti gli altri congiunzioni come ho spiegato il mio punto di vista che la congiunzione sia un aspetto che può essere positivo o negativo non tanto a seconda dei pianeti che si congiungono ma quanto a seconda del fatto che questa congiunzione riceva degli aspetti di danneggiamento, di lesione da altri pianeti o meno. In questo caso anche se Venere e Lilith non riceve aspetti lesivi da parte di altri pianeti è sempre un aspetto problematico e lo decliniamo in questo modo precisamente. Allora, la seduzione viene spesso usata come strumento per riempire uno stato di carenza affettiva che sembra non avere fine. C'è la latente convinzione che esista sempre altrove la relazione ideale, quella capace di colmare il vuoto che si sente. Anche perché nella congiunzione Luna Lilith la persona ha spesso l'impressione che quel sentimento che prova per il proprio partner non sia mai davvero quello che dovrebbe essere l'amore, cioè come se l'amore vero, quello che potrebbe scuotere la persona veramente coinvolgendola ad alti livelli stia sempre da qualche altra possibile parte e non lì nella situazione che sta sperimentando. Quindi c'è sempre la sensazione che l'amore per esistere debba essere qualcosa che completamente travolge la vita, la distrugge, la ribalta completamente dall'oggi al domani, solo quello è vero amore. Quindi voi capite bene anche che questo tipo di configurazione predispone poi anche a trovare delle relazioni abbastanza penalizzanti, magari con delle persone narcisiste piuttosto che situazioni di questo tipo, sempre piuttosto non decisamente autodistruttive, però diciamo dai toni molto molto elevati, per cui poi è necessario da parte della persona una grande capacità per imparare a gestirle ovviamente. Quindi diciamo che quando c'è questo aspetto di congiunzione o di quadratura o posizione fra Venere e Lilith si hanno sempre queste situazioni. Vediamo che cosa succede quando la persona ha lavorato su questa posizione oppure si trova una posizione più facile nel tema natale. Allora Venere e Lilith collaborano, quindi la persona è seduttiva e ammaliante, sprigiona seduzione, però queste due caratteristiche sono finalizzate all'ottenimento e alla realizzazione all'esterno nel mondo di quello che la persona vuole. Non sono così sempre fluttuanti e al servizio di qualsiasi situazione possa ispirare la persona verso qualcosa di grandioso, verso qualcosa che la possa scuotere fino al midollo e quindi non sono delle posizioni che sono al servizio di qualsiasi impresa. C'è la come dire consapevolezza della persona di saper utilizzare questa capacità anche seduttiva che comunque c'è però per raggiungere dei fini che la persona si prefiggeva fin dall'inizio, non perché si è fatta trascinare in un qualcosa che l'ha sedotta lei, nel senso è proprio il contrario, è proprio la persona che riesce a determinare all'esterno di sé quello che realmente vuole. E con questo vi saluto, vi lascio alla prossima puntata dove cominceremo ad esplorare il pianeta Marte nei suoi vari aspetti. Vi saluto e buona giornata a tutti.